Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Vaude Head 48, lo zaino di casa Vaude Ultra Light di cui adesso vediamo insieme i pregi e i difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica di questo Vaude Head. Innanzitutto direi dal peso, 1 kg e 340 g per uno zaino da 48 litri, realizzato con uno schienale ergonomico Tergolite ed è l'unico in gamma, ma non esistono altre varianti né modelli femminili né modelli più grossi o più piccoli. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e i difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Vaude Head 48. Come dicevo abbiamo uno schienale ergonomico di tipo Tergolite. Cosa vuol dire? Uno schienale che va a diretto contatto con la schiena, uno schienale che scarica molto bene il peso, lo bilancia molto bene il peso, però fa sudare tanto, davvero davvero tanto. Questo schienale non mi è piaciuto per la sua traspirabilità, io ci ho sudato tantissimo, davvero tanto, mi immaginavo un pochino più traspirante almeno, va bene che è ergonomico è, però un pochino più traspirante. Così non è stato e davvero ci ho fatto delle sudate incredibili. Di contro però, come dicevo, la parte di bilanciamento del carico è veramente ottima. Complici poi anche gli spallacci di cui parliamo dopo, ha un bilanciamento del carico quasi perfetto. Passando alla fascia lombare, e questa utilizza la stessa schiuma che utilizza lo schienale, quindi anche lei per nulla traspirante, troviamo una tasca nella parte di estra dove riporre qualche oggetto, nulla nella parte di sinistra, la fascia lombare poi si chiude nella parte anteriore con la classica clip, che comunque lavora bene, non ha nessun problema. Per quanto riguarda i chili trasportabili, diciamo che quando siamo sulla decina di chili siamo abbastanza al limite, 10-11 proprio il massimo. Complici poi anche gli spallacci che sono fatti bene, nel senso che mi è piaciuto il fatto che siano a mod di zaino da trail, nel senso che pian piano che arrivano nella parte bassa, sul petto vanno ad allargarsi, e infatti sul petto in questo caso, ad esempio nella parte di destra, troviamo anche una taschina dove riporre una barretta a un telefono. La cosa che però non mi è piaciuta è che utilizzano questo sistema ErgoShape, che praticamente fa sì che noi abbiamo un'ampia libertà di movimento con le spalle, il problema è che gli spallacci si muovono. Gli spallacci a me si sono mossi tanto sulle spalle, strusciavano, mi hanno creato parecchie irritazioni e rossori. Diciamo che è ok a aumentare la libertà di movimento, ok a aumentare il comfort, però secondo me qua sono andati un po' oltre, tanto che come vi dicevo, questi spallacci a me si sono mossi davvero tanto, e mi hanno dato parecchio fastidio. Sulla parte anteriore degli spallacci infine troviamo la possibilità naturalmente di chiuderlo sul petto con la classica clip, col fischietto, e poi abbiamo anche la possibilità di riporre i bastoncini in diagonale tra lo spallacci di sinistra e il retro dello zaino, per poter riporre mentre camminiamo. Passiamo a parlare della parte posteriore di questo head, iniziando da uno dei due lati, vi preannuncio che sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Cosa troviamo? Nella parte bassa troviamo una grossa tasca a rete dove riporre una borraccia. La borraccia riusciamo a recuperarla da soli, senza nessun problema, e poi grazie alla parte superiore aperta possiamo trasportare anche degli oggetti abbastanza lunghi che fuoriescono dalla tasca, tipo dei bastoncini o i bastoni della tenda. Nella parte superiore poi troviamo una fettuccia da utilizzare per andare a serrare lo zaino, per ridurre anche le dimensioni se le utilizziamo da mezzo vuoto, e comunque è apribile utilizzando la clip, quindi bene, mi è piaciuta. Diciamo comunque una parte laterale abbastanza scarna, però c'è il minimo indispensabile, quindi ci sta. Nella parte posteriore, vera e propria, innanzitutto avrete sicuramente notato questa grossa tasca a rete. La tasca a rete è veramente molto grossa, ci sono all'interno davvero tanti oggetti, anche dei vestiti o qualcosa che dobbiamo portare all'esterno, chiudibile nella parte in alta con una clip. nella parte laterale possiamo portare i bastoncini, però solo da una parte, quindi dovremo portarli tutti e due nello stesso gancetto, e non troviamo nient'altro, veramente molto molto scarna. Lo zaino in sé poi non è apribile in nessun altro modo, se non nella parte superiore, quindi non troviamo delle aperture laterali, non troviamo l'apertura bassa per il sacco a pelo, e la parte interna e la sacca interna è unica, quindi tutto quello che andiamo a inserire nella parte inferiore per recuperarlo praticamente dovremo svuotare completamente lo zaino. Per quanto riguarda invece la chiusura superiore, questa è classica, con un cordino andiamo a chiuderla e aprirla, in più c'è anche una fettuccia messa in dotazione che ci può consentire di poter portare una giacca ad esempio. Per quanto riguarda il cappuccio, questo ha una sola tasca nella parte esterna, molto grossa, davvero molto molto grossa, e in più una chicca non da poco staccando questo cappuccio possiamo utilizzarlo come marsupio. Quindi faccio un esempio, magari arriviamo facendo un cammino in un posto, abbiamo bisogno di un piccolo marsupio per portarci dietro qualcosa, può tornare veramente utile. Una chicca che sinceramente questa l'ho apprezzata particolarmente. Per quanto riguarda il comparto acqua, innanzitutto, esendo uno zaino ultralight, non c'è il rain cover dato in dotazione, possiamo portare all'interno una vescica con la possibilità di far uscire la prolunga sul davanti per bere e possiamo portare all'esterno due borracce. Però, come vi dicevo, la parte più importante è il rain cover, non c'è. Per quanto riguarda i materiali, devo dire che alla fine è fatto bene questo zaino. È un materiale molto leggero, un materiale che a me sta durando, l'ho utilizzato questo zaino davvero tanto, non ho avuto nessun problema. ma soprattutto Vaude in questo zaino ha messo davvero una cura nella sostenibilità dei materiali. Vi invito ad andare a leggere sul loro sito tutta la cura che ci hanno messo. Non sto qua a riportarvela io, perché sennò parlo per un quarto d'ora. Però, davvero, Vaude da questo punto di vista sta investendo molto, davvero tanto, sulla cura dei materiali per far sì che ne siano a impatto zero. Dunque, arriviamo alle conclusioni per questo Vaude Head 48 litri. Viene venduto a un prezzo online sui 200-220 euro. Sul sito di Vaude ha 240. Ve lo consiglio. Allora, diciamo che come zaino ultralight, secondo me, ce ne sono dei migliori. L'ho fatto un video a riguardo sui migliori zaino ultralight. Questo sì, ci potrebbe stare, però davvero lo schienale mi ha lasciato abbastanza insoddisfatto. Se non fosse stato per questo schienale che veramente mi ha fatto sudare tantissimo, vi avrei detto sì, compratelo a mani basso perché comunque ha delle tecnologie molto interessanti. Ma comprare uno zaino che sia anche ultralight, che sia leggero, che vi faccia sudare così tanto, secondo me non ne vale la pena. Detto ciò, io nella speranza sia stato esaurante e esaurante. Come al solito, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!